qui ci sono 1500 capi di bestiame da portare al mercato prima dell'inverno perché non ci portate con voi? un viaggio avventuroso di parte Charlie che trasformerà dei ragazzi di quel branco di lattanti in veri uomini è la vita che è dura con John Wayne i Cowboys sabato alle 21 e 20 rete 4